Scatteranno venerdì 6 agosto le misure del nuovo decreto che renderà obbligatorio il possesso del Green Pass in diverse situazioni. La certificazione verde sarà richiesta ad esempio per l'accesso nei luoghi di spettacolo e cultura come cinema, teatri e musei e anche per la partecipazione a spettacoli all'aperto e a grandi eventi sportivi. Allo stesso modo, senza il certificato, sarà interdetto l'ingresso a fiere, parchi divertimento, piscine, centri sociali e culturali, congressi e concorsi pubblici. Tra le prime attività interessate dal nuovo decreto ci sono anche bar e ristoranti, nei quali il pass sarà necessario per poter pranzare o cenare nei tavoli all'interno dei locali. Noi confidiamo molto su quello che è anche la responsabilità dei nostri avventori perché non penso che nessuno dà gusto a rischiare 400 euro per mangiare in un ristorante. Quindi siamo consapevoli di questo, noi faremo i nostri controlli, abbiamo l'applicazione. Ripeto, il problema non è in questo momento perché in questo momento il tempo ci aiuta, il tempo è bello, la gente mangia fuori, non ci sono grossi problemi tranne per alcuni che non hanno posti all'esterno quindi hanno solo la possibilità di fare pasti all'interno e al chiuso. Questo sicuramente comporterà un calo di fatturato e poi secondo me se piove o ci saranno delle cose rovinerà anche molti ai vacanzieri le vacanze che dovranno esibire tutti questi Green Pass. Non so se tutta la gente che verrà qui durante l'estate o da settembre all'anno il Green Pass possono accedere ai locali così facilmente. Così come per le attività elencate fino a questo momento anche per le palestre scatterà l'obbligo del pass. L'applicazione di tale misura divide le opinioni di gestori e titolari. Noi siamo molto rammaricati per questa cosa perché siamo nuovamente toccati perché siamo l'unica attività che comunque è stata gravemente colpita. Nuovamente siamo i primi a dover rispettare delle nuove normative. Non è il mio lavoro fare questa richiesta o fare l'ispezione ma ci attenderemo alle disposizioni normative che ci hanno dato. Non siamo contenti, la gente non è contenta, c'è una grande violazione della privacy a mio avviso e chi sono io per fare una cosa del genere. Ovviamente si sono fatte sentire le persone che non sono intenzionate momentaneamente a farsi vaccinare con la richiesta immediata del rimborso dell'abbonamento. Adesso è un periodo estivo quindi voi sapete benissimo che comunque non è un momento di lavoro per noi. Per fortuna stiamo per andare in ferie quindi speriamo che le cose si tranquillizzano. Comunque vediamo come si evolverà anche a livello, insomma se questo decreto legge poi diventerà legge. Però oltre al fatto che abbiamo diminuito di oltre il 50% gli accessi per le disposizioni che ci hanno dato precedentemente, ora vedremo un'ulteriore diminuzione. Io sono molto rammaricata, sono veramente stanca. Ci sono due discorsi, c'è il discorso ideologico di quello che sei d'accordo o non sei d'accordo e c'è quello invece professionale ed è quello che dirà la legge, insomma la normativa, il DPCM. Io diciamo di mio sono d'accordo con il Green Pass, nel senso che molti miei colleghi hanno perché perderemo gente. Io sì, perderemo gente, però forse ci aiuta a non chiudere settembre-tobre, che forse è la cosa peggiore, no? Senza il forse. Io faccio un esempio personale, nel mio staff non c'è nessuno che non è vaccinato, quindi tutti gli istruttori sono tutti vaccinati, quindi per quanto riguarda i lavoratori non ho problemi. Per il resto invece saremo fiscali e le persone dovranno esibire il Green Pass o se sarà possibile l'autocertificazione, sapendo a cosa si va incontro con la dichiarazione falsa perché l'autocertificazione va nel penale.